Schopenhauer, il rifiuto del suicidio e le vie di liberazione dal dolore. Cominciamo con la prima questione, cioè il rifiuto del suicidio. Schopenhauer fa proprio e tutta una serie di massime provenienti dalla tradizione antica e moderna. Citiamo per esempio i saggi dell'Oriente che sostenevano che esistere è soffrire, lo stesso Platone che diceva che è meglio non essere nati piuttosto che vivere, oppure Calderon della Barca il quale sosteneva il delitto maggiore per l'uomo è di essere nato. Quindi l'esistenza è un'esistenza di dolore e l'uomo progressivamente nel corso della sua esistenza impara a non volere l'esistenza. Questo non significa però che Schopenhauer teorizzi il suicidio. Fondamentalmente anzi Schopenhauer rifiuta e condanna il suicidio per due motivi di fondo. Il primo motivo di fondo è che colui che si toglie la vita non vuole eliminare la volontà di vivere ma anzi la vuole ribadire in quanto vuole vivere una vita diversa da quella che ha, non è soddisfatto dell'esistenza che sta conducendo e ne vuole un'altra. Quindi non si esce dall'orizzonte della volontà di vivere in questo senso. E secondo motivo il suicidio sopprime solo una manifestazione della volontà di vivere, cioè la vita del suicida. Ma questo non significa sopprimere la volontà di vivere nella sua totalità in quanto essa continua a manifestarsi in tutti gli altri esseri viventi. Per questo motivo liberarsi dal dolore per Schopenhauer è una strada diversa che passa attraverso tre momenti essenziali. Questi tre momenti essenziali sono l'arte, la morale e l'ascesi. Cominciamo con l'arte. L'arte per Schopenhauer è conoscenza libera e disinteressata. È un momento in cui contemplando l'opera d'arte il soggetto si sottrae alle esigenze quotidiane, i bisogni, i desideri. Per questo motivo l'arte ha una funzione catartica, un po' come sosteneva Aristotele in relazione alla tragedia. Ha una funzione catartica perché l'uomo, grazie all'arte, può contemplare la vita elevandosi al di sopra della volontà. C'è anche una gerarchia tra le varie arti, una grande importanza Schopenhauer la dà alla tragedia, che è l'autorappresentazione del dramma della vita, e un posto particolare per la musica che, secondo Schopenhauer, è immediata rivelazione della volontà a se stessa, sostenendo quindi che al di là della ragione, la musica sia una forma d'arte che ci mette in contatto con la radice stessa della vita. L'arte però ha un limite, non può essere la vera via di liberazione dal dolore, infatti essa è temporanea e parziale. Il periodo in cui noi contempliamo l'opera d'arte è un periodo delimitato nel tempo, all'interno di quell'arco di tempo noi riusciamo a uscire dal gioco della volontà di vivere, per poi però rientrarci una volta che la contemplazione termina. E quindi l'arte, pur essendo di conforto per la nostra esistenza, non è la soluzione e si richiede quindi un'altra via. La seconda via di liberazione dal dolore viene chiamata la morale o etica della pietà. Schopenhauer ritiene che ci si debba impegnare nel mondo a favore del prossimo. Noi nei confronti del prossimo dovremmo provare quel sentimento di pietà e compassione, per cui noi percepiamo le sofferenze degli altri e ci identifichiamo con il loro tormento e ci impegniamo quindi in un certo senso a ridurre il dolore del nostro prossimo, che è il nostro dolore, perché come dicevamo la volontà di vivere che provoca il dolore è unica e si manifesta in tutte le forme viventi. La morale si concretizza in due virtù cardinali. La prima è la giustizia, che consiste essenzialmente nel non fare il male, e la seconda è la carità, che è invece la volontà di fare del bene al prossimo, quindi è un atteggiamento attivo. Il problema è che l'etica della pietà o morale, anche se è un limite libera da egoismo e ingiustizia, ma non dalla volontà di vivere. Per Schopenhauer la liberazione dalla volontà di vivere e quindi dal dolore avviene quindi con la terza via di liberazione, che è rappresentata dalla Ascesi. L'Ascesi, secondo Schopenhauer, nasce dall'orrore che l'uomo prova di fronte all'idea che la volontà di vivere sia la radice numenica di tutto ciò che ci circonda e che provochi in maniera totale e assoluta il dolore. Per questo motivo noi tramite l'Ascesi dovremmo istirpare il desiderio di esistere, di godere, di volere. L'Ascesi si concretizza in primo luogo con la castità perfetta che libera dal desiderio quindi di generare altri esseri che saranno soggetti al dolore, ma poi si esplica anche con la rinuncia ai piaceri, con l'umiltà, con il digiuno, con povertà, sacrificio, automacerazione. Tutto questo ha lo scopo di educare il proprio corpo e il proprio spirito alla rinuncia, alla noluntas, quindi al passaggio dalla voluntas, volontà di vivere, alla noluntas, il non desiderio, che non significa il non voler vivere, ma il non desiderare più. Una volta giunti in questa condizione di noluntas, secondo Schopenhauer noi sperimentiamo l'esperienza del Nirvana, che è in linea con quello che sostenevano i buddhisti, sostengono ancora tutt'oggi. Nirvana inteso come esperienza del nulla. Non significa, attenzione, che ci si disperde nel niente, ma ci si rende semplicemente conto che il mondo in cui noi viviamo, che è un mondo di sofferenza, è nulla e che invece è il Nirvana a essere il tutto, cioè un oceano di pace, uno spazio luminoso di serenità, in cui le nozioni di io e soggetto si dissolvono. Ora vorrei chiudere con due riferimenti a Leopardi. Il primo, in relazione a quest'ultima questione, l'immagine del nulla, Nirvana, come un oceano di pace, è prossima alle ultime parole di Leopardi nel suo componimento L'infinito. È il naufragare, ma è dolce in questo mare. Tuttavia ricordiamo che l'esperienza dell'infinito in Leopardi è un'esperienza di finzione, se la finge all'interno della sua mente contemplando la siepe in cima alla collina, mentre per Schopenhauer e per il buddismo si tratta di un'esperienza concreta, l'esperienza appunto del nulla. Il secondo riferimento leopardiano è in relazione alla seconda via di liberazione, cioè l'etica della pietà. Questo collaborare con gli altri per ridurre il loro dolore è molto vicino al concetto presentato da Leopardi nella ginestra, quello della social catena. Questo permette quindi di stabilire dei rapporti, almeno dal punto di vista ideologico, molto stretti tra Leopardi e Schopenhauer.